Benvenuti, benvenuti a questo video di aggiornamento sulla situazione dei mercati, diciamo post-earning e trimestrali, anche se manca ancora quella di NVIDIA che chiude i risultati presentati dalle varie aziende e soprattutto l'impatto, andremo a vedere, che hanno avuto su vari titoli, a volte strano, che può rappresentare un'opportunità. Parleremo ovviamente anche di cripto e dei mercati in generale, ma fatemi salutare le persone che seguono il canale perché più appassionate dei temi dedicati all'intelligenza artificiale. È in arrivo un video a breve, quindi mi raccomando, continuate a seguire il canale e come sempre dico, mi piacerebbe che attendere poi i due mondi si unissero perché a tutti deve interessare avere una preparazione sull'intelligenza artificiale e parallelamente tutti devono essere in grado di seguire le proprie finanze, i propri risparmi e i propri investimenti, fino eventualmente ad arrivare al trading. Ma veniamo subito al focus di questo video perché è importantissimo andare a vedere quello che è accaduto. Quindi vado subito a condividere lo schermo, eccolo qui, e partiamo da Bitcoin. Meno importante in realtà perché Bitcoin è all'interno di questa lateralità che inizialmente andava dai massimi storici a 74.000 fino all'area dei 59.000 qui sotto, è stata rotta con una falsa rottura perché c'è stato un minimo qua a 56.500 che è il nuovo minimo poi dell'area di congestione perché questa si è allargata per e come conseguenza della falsa rottura appunto. È sceso sotto, come avevamo detto qualche video fa, era una tentazione troppo forte e siamo poi rientrati e quindi la congestione ora è semplicemente più ampia in un trend rialzista che dura più o meno ben definito dalla ottobre dell'anno scorso, 2023. C'è da dire però, e si vede molto bene, che in questa, che possiamo tranquillamente chiamare correzione ABC secondo il metodo ProfStay, anzi per chi non mi conoscesse, poi avete tutto il materiale didattico qui sul blog e qui a lato una guida per appunto chi inizia con il metodo ProfStay, compreso il libro, tantissimi video e videocorsi come sempre assolutamente gratuiti. Ecco, dicevo, notate una certa inerzia negativa, quindi c'è un pochino di tendenza verso il basso, anche se, ripeto, è una congestione ABC, quindi una congestione un pochino più lunga che può durare per un certo periodo, come vediamo perché va avanti dal marzo scorso, all'interno di un trend, in questo caso crescente. Quindi noi non dobbiamo far altro che, come sappiamo, mettere i limiti rispetto a massimi e minimi della stessa e attendere un'eventuale rottura confermata, stando attenti appunto alle eventuali false rotture di cui, ripeto, avevamo ampiamente parlato. C'è però una cosa che a voler usare un misto di teoria di Dow, quindi informazioni sul trend puro, siamo sul grafico giornaliero, quindi è crescente o decrescente, ecco, qui notiamo una cosa importante, vedete, c'è stato, se volete, un minimo inferiore, che poi è stato ripetuto due volte, ma ripeto, in realtà eravamo in congestione, questo invece è un minimo un pochino più marcato, che si può sì considerare come minimo inferiore rispetto ai precedenti, scusatemi, un massimo inferiore rispetto ai precedenti, e poi questa rottura che si può classificare come minimo inferiore. Cioè, in una parola, questi due livelli sono in realtà, per chi volesse andare un pochino più a fondo, due livelli da seguire perché sopra questo livello dei 67 mila come area, si annulla questo allarme di possibile inversione con un massimo inferiore ai precedenti, diciamo, e una rottura di questo livello invece arriverebbe all'inversione di trend al ribasso. Per ora, ripeto, c'è solo un'inerzia negativa, il trend rimane rialzissimo e siamo in una correzione ABC. Quindi, la cosa più facile è mettere i limiti qui e qui e vedere se c'è una rottura degli stessi confermata, proseguimento del trend verso l'alto, possibile inversione verso l'alto, basso. Ma, se vogliamo andare a vedere in termini di teoria di Dow, per invertire un trend serve un massimo inferiore al precedente, un minimo inferiore al precedente, e una rottura dello stesso e si vede proprio che questo a 67 mila e questo a 56, 500 sono massimi e minimi inferiori al precedenti, quindi sono livelli molto importanti perché qui si annullerebbe al di sopra di questo livello il tentativo di inversione del trend, così come sarebbe confermata qua sotto, cosa che verrebbe confermata anche dalla rottura al ribasso dell'area di congestione. Quindi, diciamo, l'unico vero livello che anticipa un po' potrebbe essere questo, perché, se è vero che dobbiamo, per conferma positività e possibilità di andare su nuovi massimi, massimi storici e quant'altro, attendere la rottura ovviamente di questo livello, qui c'è un pochino di anticipazione perché sopra questo si annulla il tentativo di inversione che è ancora in corso. Quindi, ripeto, due modi per leggere quello che sta succedendo su Bitcoin. Andiamo con Ethereum che ha un'inerzia negativa ancora un pochino più marcata, perché sì, è vero, anche qui un trend crescente, tutto quello che volete, ma si vede che tira, piega, tende ad avere appunto un'inerzia un pochino più negativa, si vede a colpo d'occhio rispetto a Bitcoin. Bitcoin ha rotto più volte questo livello che vi avevo indicato tante volte come livello chiave e lo è ancora, perché vedete che ha fatto avanti e indietro un sacco di volte, però anche in questo momento e mentre parliamo siamo intorno a questo punto qui, che in realtà non è più così importante, perché se vogliamo ragionare in termini di lateralità, anche se c'è una, ripeto, decisa inerzia negativa, bisogna ragionare che, come per Bitcoin, finché il mercato rimane tra questo livello in area 4100 e questi nuovi minimi in area 2800, diciamo che siamo all'avanti e indietro, cioè quel atteggiamento non direzionale. Però si vede che, ripeto, pesa un pochino di più e quindi anche qui addirittura il massimo inferiore l'aveva già fatto qui, l'ha ripetuto qui, questo comunque decisivo minimo inferiore non è stato per ora violato, quindi ancora più importante l'eventuale area qui in zona 2800, perché se venisse rotta al ribasso, si avrebbe appunto un'inversione di trend in termini ribassisti, cosa che per ora non è ancora comunque avvenuta. E ovviamente se si andasse sopra questo livello, ancora meglio, per Ethereum è meglio aspettare questo livello ulteriore, quindi sopra questo massimo, si avrebbe perlomeno un'interruzione della tentata inversione di trend. Quindi mi raccomando, seguiamo anche Ethereum, anche se rimane il focus e deve rimanere su Bitcoin, perché c'è un pochino più di pesantezza. Solana. Allora, su Solana la situazione è ancora un pochino diversa, perché la congestione in alto era già stata rotta al ribasso qui, nel periodo in cui c'era il network congestionato e non riuscivano a passare le transazioni, lo ricorderete, e poi si è messo in laterale su questo livello. Diciamo che quando reagisce Solana addirittura sovraperforma sia Ethereum in Bitcoin, quando reagisce in positivo, si è visto ad esempio nella giornata di ieri, basta confrontare a colpo d'occhio la barra di ieri, ma ce ne sono tante altre prima, quindi ha molta reattività, ma anche qui, attenzione, perché se è vero che qui poteva eventualmente aver già fatto un massimo inferiore, questo era sicuramente un minimo inferiore, che un po' come per Ethereum non ha penetrato. Quindi se mai si venisse sotto questo livello, e ovviamente non è detto che accada, ci sarebbe un'inversione a ribasso del trend giornaliero su Solana, molto importante, perché viene da una performance 2023-2024 di tutto rilievo. Però ripeto, si vede essere molto molto reattiva verso l'alto. Quindi, e in una parola, quando e se si supererà questo livello, almeno saranno annullati i tentativi di inversione in corso del trend su base giornaliera. Oppure, e si può leggere il tutto in maniera molto più semplice, una congestione qui tra questi minimi in area 120 mal contati e questi massimi a 160, finché si rimane qui c'è una non direzionalità, dopo che era stata rotta a ribasso questa prima area di congestione, quindi se si tornasse sopra ai 160, perlomeno si rientrerebbe in quest'area di congestione, allora a quel punto, un po' come per Bitcoin, si potrebbe prendere tutta l'area tra i massimi e minimi come area di non direzionalità. Quindi, continuiamo a seguirle tutte e tre, dando però maggiore importanza a Bitcoin. Ethereum è appesa un pochino a metà con questa negatività, inerzia negativa, chiamiamola meglio, un pochino più marcata. Solana è quella più reattiva, però è anche quella che in questa pausa, ritracciamento, è scesa di più. Quindi elementi da tenere presenti. Sui miner, i miner su Bitcoin hanno una situazione positiva di fondo, ma vedete che continuano a fare molta fatica. Positiva perché l'ash rate, cioè la potenza di calcolo che porta alla potenza di calcolo necessaria per poi andare a produrre Bitcoin, è sceso ed è sceso tanto. Questo significa una maggiore efficienza e un minor costo di produzione, che dovrebbe favorire tutti i miner. Questo è CleanSpark, CLSK, che conoscete, lo teniamo un po' come benchmark, perché è quello che performa meglio. Guardate, dopo l'Alvin c'è stato un tentativo di tornare su questi, che non sono i massimi storici, comunque su questi massimi, interrotto a metà, si è tornati verso il basso, insomma, anche lui similmente a Bitcoin è in un'area che va da qui a qui di non direzionalità, all'interno della quale c'è molta volatilità, perché a volte fai più 20, meno 20% in giornata, ma che è utile tenere presente per capire bene qual è il sentimento generale sulle crypto. Poi di miner ce ne sono tanti altri, potete anche prendere, se volete, ancora più termine medio dell'industria, questo ETF solo per seguire quello che fa che, quello che fa l'industria dei miner su Bitcoin, che però, vedete, ha un andamento molto simile a quello di CleanSpark. Bene, detto tutto questo, per quanto concerne il tema criptovalute, andiamo a vedere un pochino di titoli e i risultati e le riflessioni rispetto agli stessi. fermo restando che il Nasdaq e l'S&P 500, dopo questo picco di negatività, sono tornati molto vicini ai massimi storici, massimi storici che addirittura sul DAX sono stati superati, l'Eurostox anche lì, proprio su quella zona, su quel livello, formalmente il future, vedete, li ha superati, quindi c'è positività di fondo, anche il Futsu Mib va molto bene, e anche l'Ibex, che aveva avuto un ritracciamento abbastanza marcato, comunque è tornato molto vicino a questi livelli di massimi. il discorso quindi qual è? Che c'è di fondo sempre una certa resilienza nella positività, e si vede molto bene quando ci sono questi recuperi, e la stagione delle trimestrali, che non è finita, ma insomma ha visto già presentare le trimestrali dei principali titoli e aziende che seguiamo, fatta eccessione per NVIDIA, che ce l'avrà il giorno, lo vediamo qui, 22 maggio, quindi manca ancora un pochino di tempo e fino ad allora rimaniamo comunque in stagione trimestrali, perché ce ne sono poi tante altre, però la considerazione che volevo fare è, visto che abbiamo parlato di opportunità Apple ed eventualmente di opportunità Tesla, Tesla ha fatto bene dopo la trimestrale, ma al grado la trimestrale sia stata molto negativa, perché c'è stato l'effetto annuncio, diciamo, dal quale poi c'è stato anche un po' di ritracciamento, quindi rimane in attesa di giudizio. Apple invece che viaggiava e veleggiava qui in questa zona intorno ai 160-170, ma i contati è 165-180 quello che è, ha fatto molto bene perché c'è un programma di buyback e un aumento del dividendo, quindi la trimestrale in stay non è stata particolarmente entusiasmante, nel senso ha fatto bene, ma ci sono state ad esempio le discese nella vendita degli iPhone e quant'altro, contrappeso hanno fatto i servizi, dove invece c'è una crescita molto bene, i servizi sono iCloud, Apple TV e tutte quelle cose, appunto, Sile, Apple TV e quant'altro, quindi con le recurring revenue, cioè l'abbonamento, diciamo così, però ha goduto positivamente del fatto che è stato annunciato il buyback e incrementato il dividendo. Ora, qui a livello tecnico il titolo resta sicuramente interessante da seguire, anche in ottica del fatto che a giugno verranno presentate queste novità che riguardano l'intelligenza artificiale che abbiamo già intravisto con il processore M4 inserito nel nuovo iPad presentato da poco e che è un processore capace di gestire tutti i calcoli, la faccio facile, relativi all'intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Quindi una grossa novità e un grosso vantaggio competitivo per quanto riguarda Apple, sempre in tema protezione della privacy dei propri clienti e quant'altro. Non solo, ma Apple ha anche annunciato lo sviluppo di processori dedicati all'intelligenza artificiale propri, quindi staccandosi un po' da quello che è lo standard fin qui dell'industria che sono appunto i processori Nvidia. Nvidia quel giorno aveva in intraday sofferto un pochino e poi è più o meno è stata riassorbita la negatività. Conseguente alla notizia, lo ripeto, che Apple ha e sta già producendo e utilizzerà propri processori per i modelli di intelligenza artificiale, per l'addestramento e quindi le due fasi, quella dell'addestramento e quella poi dell'inferenza che utilizzano tantissimo potere di calcolo. Quindi anche questa è una notizia sicuramente positiva per Apple, ha avuto appunto un impatto anche su altre aziende del settore come Nvidia, ma ripeto, per Nvidia bisogna in realtà attendere sia la trimestrale e capire che anche se Apple si fa i processori da sola, per ora non ha la capacità di impattare più di tanto sul bisogno che c'è di questi processori, di queste Graphic Processing Unit, quindi questi processori grafici capaci appunto e utili di lavorare per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Ecco, quindi, e su Apple, rimaniamo tecnicamente a seguire questo gap creato post-learning, perché? Perché anche qui non è detto che accada, potrebbe esserci la tentazione almeno di andarlo a colmare. Quindi, e vediamo cosa succede rispetto a quest'area sviluppatasi appunto post-earnings con un gap che non è detto ma potrebbe riportare almeno per essere chiuso Apple su questi livelli. Ripeto, non è detto che accada perché lo vedete durante la discesa tante volte i gap qui è stato chiuso però altre volte sono stati lasciati aperti quindi e mi raccomando addirittura qui vedete tra questi livelli c'è una sorta di area di aria creata appunto da gap verso il basso e verso l'alto quindi un livello è una zona molto importante da seguire questa sotto i livelli attuali per la possibilità eventuale di chiusura gap da tenere presente quindi Apple ha qualche difficoltà sicuramente sicuramente però ha anche buone prospettive il fatto che il buyback potrebbe sostenere il titolo è qualcosa che ha allettato gli investitori e Wall Street in generale che hanno ricevuto bene la notizia staremo a vedere tecnicamente teniamo presente questo gap questa bolla d'aria diciamo così su Tesla invece il discorso è un pochino più complesso perché gli effetti annunci hanno portato a questo gap e a quest'altro uno dei due che praticamente è stato quasi interamente colmato e quindi anche qui io starei a vedere dal punto di vista tecnico se si andasse poi a chiudere anche il primo dei due gap post earnings post risultati vedete poi qua in alto ne è rimasto un altro cioè anche Tesla non è che li chiude sempre subito quindi facciamo sicuramente attenzione a questo discorso però quello che noto è che benissimo non sono il primo a dirlo l'impegno di Tesla nel tema intelligenza artificiale che va sicuramente tenuto conto e presente al di là dell'automotive perché tutte le Tesla diventano con specie col tema pilota automatico e qualt'altro fonti di dati e informazioni che servono poi ad addastrare l'intelligenza artificiale non solo il sistema di self driving incluso in Tesla quindi da seguire anche in quest'ottica però tra le due che avevo segnalato appunto nell'altro video è quello che sta continuando a soffrire un pochino quindi va tenuta un po' sotto controllo lo avevo già detto l'altra volta anche al di là degli effetti annuncio perché è importante che poi ci sia una delivery cioè ci siano oltre che parole anche i fatti in una parola poi vi faccio vedere velocissimamente anche meta perché c'era quest'isola qua sopra con questo gap che nel momento in cui c'è stata una reazione negativa agli earning poteva pensarsi di appunto così vedete che i gap non sempre si colmano essere chiuso in qualche modo invece si è ripartiti almeno per ora verso l'alto andando avverrà qua sopra eventualmente anche qui a chiudere questo gap cioè adesso meta ha tecnicamente un'isola qua sopra in zona massimi un'isola qua sotto e in qualche modo tutta questa zona col gap sopra lo ripeto è il gap sotto è una zona che potrebbe essere in qualche modo riempita teniamolo assolutamente presente per quanto riguarda Nvidia invece è ovvio attende dopo il ritracciamento prese di profitto quello che è che abbiamo ben vissuto e che ovviamente coincide come tempi con quello degli indici Nasdaq S&P 500 anche perché Nvidia pesa tanto non è stata l'unica causa ma insomma ha avuto il suo effetto il suo impatto ora però bisogna vedere cosa succederà con gli earning e vedete che saggiamente attende proprio anche si vede rispetto a questa distribuzione dei volumi in questa zona interna a quest'area di congestione che appunto vada qua in alto a qua in basso e quindi di nuovo fino ad allora saremo in un'area di non direzionalità e per giudicare l'effetto reale degli earnings sarà facilissimo perché se è vera positività andremo qua sopra se invece si tratta di vera negatività andremo qua sotto cioè se avremo dei balzi all'interno di quest'area saranno più o meno da prendere come un nulla di fatto quindi mi raccomando parametri molto molto interessanti livelli e aree su Nvidia per giudicare quello che accadrà con gli earnings andiamo avanti vi faccio vedere Airbnb che li ha presentati da poco e anche Shopify perché hanno una situazione molto simile però prima di analizzarla vi faccio vedere addirittura il grafico mensile così capiamo un po' dove siamo questa è Shopify e questa qui è Airbnb ok quindi torniamo ai grafici giornalieri perché situazione simile perché la trimestrale è stata molto positiva sotto tanti aspetti ma il mercato ha reagito negativamente nel caso di Airbnb per le guidance cioè per quello che si aspetta nei prossimi prossimi trimestri quindi un pochino di calo delle revenue che poi è comunque contenuto ma è stato interpretato in questo modo da Wall Street situazione simile perché anche Shopify ha una trimestrale ha avuto una trimestrale molto molto buona ma la reazione è stata questa distanza qui è circa un meno 20% che ha fatto sulla notizia e quindi di nuovo anche qui attenzione tra l'altro entrambe soffrono un po' del tema consumatori che possono spendere un pochino di meno come abbiamo visto ad esempio anche con Starbucks ne parlavamo a Market Briefing che è scesa ed è scesa tanto perché nessuno ha più voglia di comprare quei caffè più o meno elaborati per 10-15 euro dollari che dir si voglia quindi per esempio Starbucks ha sofferto molto il fatto dell'aumento dei prezzi che è andato ben oltre addirittura l'inflazione a un certo punto i consumatori hanno detto basta ma e in generale anche Shopify che fa strumenti per l'e-commerce la semplifico al massimo Airbnb tutto il tema viaggi e vacanze stanno anche loro un pochino soffrendo o dimostrando diciamo meglio che dopo l'inflazione dopo quindi l'impoverimento generale in termini di potere d'acquisto questo sta iniziando a impattare sulle spese ed è un elemento che magari non agirà subito sull'economia e sui mercati ma che c'è sullo sfondo e ne abbiamo già parlato tante volte va sicuramente tenuto presente coinvolge anche altre aziende come McDonald's e quant'altro quindi andiamo a vedere tecnicamente perché se guardo il mensile su Shopify è molto facile capire che bisogna aspettare un ritorno sopra questi livelli che era poi il massimo che aveva fatto da metà 22 compreso il ritracciamento in avanti per parlare di vera positività quindi siamo in una zona poco interessante sul mensile anche perché in discesa c'è questo minimo ed eventualmente questo minimo che sono molto importanti ma l'eventuale recupero e positività secondo me si avrà solo sopra questo livello a livello intraday invece è interessante perché perché c'è stato un gap ribassista che l'ha portata in corrispondenza di quest'altro gap che aveva fatto su earnings precedenti lo vedete non gli scorsi è due earnings fa diciamo così quindi anche qui c'è una piccola bolla d'aria o comunque un gap più ampio da colmare ma dobbiamo capire quale sarà la tentazione eventuale di andare a chiudere questo cioè arrivare fino alla zona dei 45-50 per capirci che vi faccio rivedere sul mensile è ovviamente questo minimo qui quindi facciamo attenzione al di là del tecnicismo a questa possibilità cioè cercare di capire se si vuole lasciare aperto quest'area qui oppure se se ne approfitta per andare a chiudere questo gap fare questi minimi poi ordinatamente magari ripartire verso l'alto e allora sì superare i massimi precedenti qui cioè quelli che sul mensile sono questi cioè si arriverebbe per capire in questa zona qui per poi ripartire quindi da tenere presente il fatto che a livello tecnico siamo un po' in mezzo al guado con Shopify quindi si può seguire con calma per capire quali sono le reali intenzioni Airbnb se guardo il mensile voi sapete che è una posizione in Airbnb ormai da tempo in memore e che ha una configurazione se vedete più volte ve l'ho descritta suddivisa in due parti una prima area di congestione qua sopra e una qua sotto adesso è a metà tra le due quindi si capisce bene che non sa bene cosa fare perché il tentativo di questo è proprio il POC di tutto il periodo dalla quotazione in avanti di Airbnb il tentativo di andare qua sopra si è fermato qui in zona 170 quindi va superato questo livello per poter afferire perlomeno all'area superiore però vedete che è proprio adesso post risultati lo ripeto questo è il grafico mensile c'è un tentativo di tornare nell'area sotto quindi e di nuovo Airbnb è veramente a metà del guado non con i gap che adesso vi faccio vedere sul giornaliero ma proprio con una situazione che sul mensile si vede molto bene è meno chiara è meno interpretabile facilmente come invece lo è quella di Shopify andiamo sul giornaliero di Airbnb perché vedete ecco qui adesso si è creata un'isola verso il basso cioè c'è un gap il tentativo la voglia di colmarlo anche perché i risultati sono stati estremamente positivi potrebbe portare ad un ritorno qua sopra per lo meno ed eventualmente il ritorno qua sopra farebbe poi eventualmente tornare al test dell'area 170 che vi ricordo è l'importante livello di sopra il quale per lo meno Airbnb torna qui cioè ad afferire alla congestione che fece all'inizio post quotazione qua sopra e invece se questo non dovesse avvenire si potrebbe tornare appunto verso il basso cioè se da qui ovviamente si tornasse sotto e si vede molto bene che appunto di spazio ce n'è e ce n'è purtroppo tanto quindi è da capire molto molto bene questo lo possiamo già fare nelle prossime ore e giornate per vedere se e come si deciderà di muoversi con Airbnb se in senso di chiusura gap verso questa zona oppure se proseguirà verso il basso e lì vedete che lo spazio c'è anche abbastanza intuitivamente fino a questi livelli ma soprattutto a questi che ve lo faccio rivedere sul mensile sono qua meno visibili perché sul mensile c'è questo livello e questo livello cioè l'area dei 110 qui sopra e qui sotto come primo riferimento quindi sul mensile si capisce meno l'importanza di questa zona qua che è un livello presente invece sui giornalieri ed è quell'area da tenere presente qualora si decidesse di proseguire verso il basso cioè si decidesse di proseguire con quella che è stata la reazione Wall Street post earnings c'è da dire però che in after hour subito dopo aveva raggiunto addirittura un meno 20% ieri invece nella prima giornata post earnings poi ci si è assestati su un meno 7 8% quindi un pochino più in alto del livello che intorno ai 145 mai contati aveva fatto in after hour quindi a livello di risultati l'azienda è messa molto bene secondo me c'è un pochino di preoccupazione sulle guidance ma rimane una realtà solida con delle crescite anche molto importanti su mercati non gli Stati Uniti ma altri mercati come e primo fra tutti EMEA quindi l'Europa e non solo che portano questo business ad essere e rimanere sicuramente molto molto interessanti poi siamo alle porte della stagione estiva ci sono le olimpiadi che porteranno comunque una serie di chiaramente non possono impattare a livello globale ma una serie di interesse verso l'offerta Airbnb è sicuramente in dubbia staremo a vedere e tecnicamente ripeto ritengo molto interessante capire se Airbnb vorrà subito andare a colmare questo gap diciamo relegando la reazione post earnings a qualcosa di emotivo o se invece darà più importanza a questa reazione post earnings andando perlomeno nella zona qua sotto spero di essere stato sufficientemente chiaro a proposito di earnings sono usciti anche quelli di Robinhood qui lo ricorderete molto bene più volte avevamo segnalato come superato c'era quest'area di lateralità questo è il mensile che è stata appunto rotta al rialzo ormai da tempo perché era febbraio quando ne parlavamo e l'avevamo anche anticipata mi ricordo facendo vari ragionamenti se opzioni e quant'altro qui c'era questo massimo di conferma che è a 16,49 e se guardate è un massimo molto importante perché non è rientrato al di sotto dello stesso quindi è un livello è un'area che deve tenere se si vuole mantenere il quadro positivo e che però se guardo i minimi fatti per esempio ieri 16,31 post earning torno un attimo sul daily scusatemi non era ieri era nel periodo pre risultati cosa vuol dire questa serie di minimi qua che sul mensile si vede appunto corrispondono ai minimi in zona massimi qui che erano quelli decisivi hanno dimostrato una voglia da parte di Robinhood di testare questo livello e per ora di tenere stiamo attenti che se dovesse rientrare appunto si parlerebbe di una falsa rottura di quest'area di lateralità quindi è una zona molto interessante e molto molto importante da seguire che dire ancora io mi metterei in attesa perché fino alla trimestrale Nvidia il mercato rimarrà un pochino appunto in attesa di questo evento importantissimo che di fatto chiuderà la stagione delle trimestrali che però è già molto avanzata perché dei risultati ne sono venuti tantissimi attenzione al mondo cripto ma anche lì vi ho dato aree e livelli molto importanti e da seguire sia su Bitcoin su Ethereum ma anche su Solana ma tenete e teniamo in prima evidenza quello che accade su Bitcoin i miner li teniamo solo per capire e li analizziamo il mindset che c'è su Bitcoin e poi come dicevo anche un paio di video fa tutte le opportunità che si sono via via sviluppate su Apple Tesla e quant'altro hanno bisogno però dopo la reazione post-earning di un'eventuale conferma e anche lì ci siamo presi dei livelli perché è molto molto importante capire come verrà il mercato a lavorare appunto queste aziende anche rispetto alle promesse nel caso di Tesla e ai un pochino più di fatti che si vedono arrivare sul fronte Apple con il buyback con il dividendo aumentato e i programmi sull'intelligenza artificiale che sicuramente sono molto importanti e interessanti con questo video è tutto io vi ringrazio per aver seguito fin qui ovviamente vi invito a come sempre iscrivervi al canale attivare le notifiche per poter ricevere appunto una notifica ogni volta che vado in onda vado live presento per voi un video in ogni caso vi ringrazio per essere stati con me e mi raccomando seguite anche gli altri video dedicati al tema intelligenza artificiale al tema longevità in generale che con l'avvicinarsi dell'estate riprenderò perché ci sono un po' di cose da fare e un po' di lavori da fare approfittando della stagione primaverile ma soprattutto di quella estiva grazie a tutti e a presto ciao ciao